Questo video riguarda i migliori tre troncatrice FEMI. Il vincitore della qualità è il Bosch GCM8SJL. Meno peso, meno polvere, più potenza. La compatta GCM8SJL Professional è la soluzione i pulita i per tagliare pezzi di grandi dimensioni. Con una capacità di taglio di 70 mm in verticale e 312 mm in orizzontale è l'ideale per segare pezzi di grandi dimensioni. Con un sistema di aspirazione della polvere a due punti questa troncatrice radiale assicura un'area di lavoro pulita durante l'uso. Lavori più precisi, meno danni alla salute causati dalla polvere e lunga durata dell'utensile. Facile sostituzione di dischi e utensili grazie all'arresto dell'alberino. Avvio soft, grazie alla temporanea riduzione di carico e di coppia del motore. Direttamente nel sacchetto integrato sull'utensile E.O. con un sistema di aspirazione multifunzionale. Capacità di taglio 0 gradi 70 x 312 mm Capacità di taglio smusso 45 gradi 70 x 214 mm Barra inclinazione a 45 gradi, 48 x 312 mm Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è l'Evolution T210 SMS+. R210 SMS include una lama giapponese di alta qualità con punte di tungsteno di carbonio e un maggior numero di denti per tagli più netti. I morsetti a rilascio rapido consentono tanto una più rapida regolazione del serraggio quanto anche una maggior sicurezza di bloccaggio del pezzo. Tale protezione supplementare protegge non solo da infortuni fisici ma anche dagli sacchetto per la polvere incluso accumuli di detriti di taglio che possono ostacolare lo svolgimento del taglio. Mantenete il vostro ambiente di lavoro pulito e in condizioni di sicurezza. Collegare il sacchetto per la polvere in modo da raccogliere i detriti che fuoriescono dall'attacco posteriore per l'aspirazione polvere. R210 SMS è davvero trasportabile. La maniglia posteriore per il trasporto consente di sollevarla e muoverla in sicurezza in officina o sul luogo di lavoro. Il cavo di 3M garantisce un'ampia manovrabilità della sega, il che rende inutili cavi di prolunga. Il vincitore del premio è l'Einel TCMS2112. La troncatrice TCMS2112T è un attrezzo di alta qualità destinato agli appassionati del fai date più esigenti per eseguire piccoli lavori di taglio trasversale obliquo su pezzi di legno, laminati e plastica. Il banco di taglio è regolabile in continuo, in questo modo la troncatrice può essere utilizzata anche come sega circolare da banco. Il robusto piano girevole garantisce una precisa regolazione dell'inclinazione, regolabile in continuo grazie alla comoda impugnatura. La testa di taglio inclinabile in continuo verso sinistra consente di effettuare tagli obliqui e smussature nell'angolazione desiderata. Grazie alla guida parallela e trasversale e alle superfici di appoggio su entrambi i lati, i pezzi da lavorare possono essere fissati in sicurezza. La lama rinforzata in metallo duro fornita in dotazione garantisce lunga durata e tagli precisi. La pulizia del banco di lavoro è assicurata dalla possibilità di collegamento a qualsiasi aspiratore con raccordo da 36 mm. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.